Ben ritrovati, nuovo appuntamento con l'informazione del telegiornale TV City. L'Italia in zona gialla quasi per tutte le regioni e si pensa alla riapertura agli spostamenti proprio fra le regioni. A decidere dovrà essere il governo Draghi appena verrà nominato insieme a un piano vaccini. Punto sull'emergenza Covid nel Vesuviano con un boom di contagi sia a Torre del Greco che a Torre Annunziata nel weekend. Video della vergogna invece a Torre del Greco dove viene mostrata la violenta aggressione a una ragazza trans su via nazionale. E ancora causo rifiuti nella città del Corallo con le strade di Torre del Greco sporche il lunedì mattina. In conclusione lo sport con la Turis che conquista un pareggio negli ultimi 5 minuti contro il Bisceglie. Questo ed altro nei nostri servizi. Passato il primo weekend in giallo, con folle in città e sulle spiagge, mentre l'epidemia appare stabile su numeri ancora alti, ci si avvia ad un'altra scadenza importante. La fine del divieto di spostamento tra regioni, anche gialle, il 15 febbraio, mentre l'ultimo DPCM firmato al Premier uscente Giuseppe Conte scadrà il 5 marzo. Bisognerà vedere cosa deciderà il nuovo esecutivo guidato a Draghi, che secondo alcune previsioni potrebbe giurare prima di venerdì, proprio nel giorno del monitoraggio settimanale della cabina di regie e delle eventuali ordinanze del Ministro della Salute. Sarà il nuovo Governo a fare una valutazione sulla base del quadro epidemiologico, sulla mobilità tra le regioni, ha detto giorni fa il Ministro uscente degli affari regionali, Francesco Boccia, nelle diverse fasce e in particolar modo in fascia gialla, anche perché eventuali misure limitative necessitano di un apposito decreto. La fine del divieto di spostamento tra regioni viene invocata, tra gli altri, dai gestori di impianti sciistici, la cui riapertura, ma solo nelle zone gialle, è stata già avallata dal Comitato Tecnico Scientifico e prevista proprio per il 15 febbraio. Ma sono altre le sfide che attendono l'ex numero uno della Banca Centrale Europea nel suo ruolo di Presidente del Consiglio. La minaccia costituita alle mutazioni, anche quella sudafricana e quella brasiliana, si intreccia alla campagna vaccinale, che ha accumulato circa tre settimane di ritardo a causa dei pesanti tagli delle aziende alle forniture di dosi. Il siro di AstraZeneca è arrivato invece con due giorni di anticipo e le 250.000 fiale del primo incarico saranno somministrate da martedì agli under 55 in buona salute, a partire da insegnanti e membri delle forze dell'ordine. Contestualmente si procederà a completare la vaccinazione di sanitari e ospiti dell'RSA e si procederà con quella degli ultraottantenni. Queste ultime categorie hanno avuto destinati vaccini Pfizer e Moderna per un totale di oltre 2,5 milioni di dosi somministrate finora e oltre 1,1 milione di italiani che hanno ricevuto anche il richiamo e sono quindi davvero vaccinati. L'obiettivo è immunizzare 4 milioni e mezzo di persone entro fine aprile. A marzo si prevede che l'Agenzia Europea del Farmaco dia via libera al vaccino della statunitense Johnson & Johnson, monodose, quindi più facile da conservare e da somministrare. L'Italia ne aveva opzionati inizialmente decine di milioni di dosi, ma viste le brutte sorprese delle ultime settimane da parte di altre aziende, sembra ormai chiaro che la vera campagna di vaccinazione di massa difficilmente inizierà prima di marzo. Completare la campagna vaccinale è tra gli obiettivi indicati da Draghi nel suo finora unico e breve discorso al Quirinale. Solo nel weekend da venerdì a domenica sono stati riscontrati 87 nuovi positivi a Torre del Greco, a preoccupare ancora di più la totale assenza di guarigioni nello stesso periodo. Salgono così a 605 tuttora positivi nella città del Corallo, con 29 persone ancora ricoverate in regime ospedaliero. Fra sabato e domenica sono stati 114 nuovi positivi anche a Torre Annunziata, un nuovo boom di positivi che va ad aggravare la già critica situazione cittadina. Togliendo le 58 nuove guarigioni, sono 836 cittadini attualmente positivi, di cui però solo 14 ricoverati con sintomi. In aumento i contagi anche a Portici. Nella prima settimana di febbraio sono stati eseguiti 1.7 tamponi sui cittadini, con un esito in nuovi contagiati pari a 129, con una percentuale di positivi sul numero di tamponi del 12,8%. Incremento sostenuto anche a Castellammarei Stabbia, con 64 positivi registrati sabato su 247 tamponi, 19 di questi sono minori di 17 anni. Nello stesso giorno sono state riscontrate anche 29 guarigioni. Meno preoccupante è la situazione a San Giorgio a Cremano. In una diretta ai venerdì, il sindaco Zinno aveva confermato che i positivi totali in città fossero solo 173. Nell'intera settimana erano stati registrati solo 9 nuovi contagi. 19 invece i positivi registrati è nello stesso arco di tempo Ercolano, che tuttavia raggiunge quota 417 cittadini positivi. Un video della vergogna scuote Torre del Greco. Una ragazza transgender è inseguita da alcuni suoi coetanei, fra urla di paura e risate di scherno. Nella fuga inciampa, ma i suoi aggressori non si fermano. Una serie di calci sulla giovane, che è inerte a terra, non può far altro che urlare di dolore. Questo avveniva sabato su Via Nazionale a Torre del Greco, all'altezza dell'ufficio postale. Triste che la scena sia stata ripresa da qualcuno, non è chiaro se un passante o un complice degli aggressori che nulla ha fatto per evitare l'episodio di violenza. Grave che lo stesso video sia stato postato sui social. Ironico che tutto ciò sia stato fatto nel giorno dedicato alla lotta al bullismo, al cyberbullismo. Un'insensata violenza scaturita solo dall'ingiustificato odio, dalla più ignorante omofobia. Picchiata perché nata donna nel corpo di un uomo, attaccata per il suo orientamento sessuale. Il video ha fatto inevitabilmente il giro del web, a condividerlo il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli per denunciare l'accaduto. Tante le manifestazioni di supporto alla giovane da parte dell'amministrazione comunale. Il sindaco Palumba promette «Seguirò in prima persona con le competenti autorità gli sviluppi della questione» e denuncia «La violenza, sia fisica che verbale, rappresenta il più basso istinto comportamentale per una comunità che, invece, vuole definirsi progredita e civile». Ancora caos rifiuti a Torre del Greco. Di nuovo, un lunedì caratterizzato da strade in base dall'immondizia nella città del Corallo. I rifiuti non raccolti fuoriescono dai contenitori appositi o, semplicemente, giaciano sui marciapiedi. Come spesso accade alla fine del weekend, la raccolta non è stata effettuata nel corso della notte e delle prime ore della mattina. Con le nostre telecamere abbiamo mostrato il degrado di Corso Garibaldi, ma le stesse immagini possono essere riscontrate anche in tutto il centro storico cittadino. Oltre all'evidente assenza di operatori è chiara anche l'inciviltà di alcuni residenti. Fra i soliti sacchetti appaiono rifiuti ingombranti depositati a bordo strada, mobilio, anche integro, elettrodomestici, immancambili materassi e pezzi di autovetture. Preoccupazione anche per il maltempo di queste ore. Il forte vento potrebbe disperdere i cumuli di rifiuti riversandoli nell'aria e in ogni angolo della città, mentre i previsti temporali potrebbero far arrivare tutta la sporcizia in mare. All'inferno è il ritorno. La Turris risorge a un passo dal quarto K.O. consecutivo e riacciuffa in extremis il pareggio contro il Bisceglie. La squadra di mister Fabiano si schierano con il neoacquisto Ventola in avanti che impegna da subito il portiere ospite, seguito poi da una conclusione di Giannone. Ma alla prima occasione i pugliesi passano. Da calcio d'angolo è alto Bello a sventare su tutti e insaccare per il vantaggio Nero Azzurro alla mezz'ora. Nella ripresa subito dentro Longo per i Corallini che si riversano in avanti. Proprio Longo chiama Russo la parata. Poi ci provano Romano e Loreto, ma la porta avversaria appare stregata. Alla mezz'ora il Bisceglie, come nel primo tempo, alla prima vera opportunità, trova il rigore per fallo di mano di Dinunzio che il cittadino trasforma portando i suoi sul 2-0. Sembra ormai finita, ma a cinque minuti dal termine Giannone, da fuori trova la lette che scuote i Corallini. In pieno recupero lancio lungo di Franco, la palla arriva a Persano che sovra il portiere in uscita e infine in rete per il clamoroso pareggio che fa esplodere la panchina della Turris. Un punto che finalmente muove la classifica e ridà nuova linfa alla squadra dopo un periodo a varo di soddisfazioni. La trasferta di Monopoli in quello che è un altro scontro salvezza dirà se la Turris è uscita dal tunnel. Grazie per la cortesia attenzione. Per info e segnalazioni potete contattarci alla mail redazione chiocciolatvcity.it o al numero di telefono 340 65 61 484. Con questo è veramente tutto. Io vi do l'appuntamento a domani con altri servizi. a domani con altri servizi.